Ciao a tutti, sto cercando, disperatamente Daniele e Izzo non lo trovo, però secondo me si è imboscato nel camerino, venite con me. Dani! Sì? Ah, vedi che avevo ragione? Sì. Che sei nel camerino? Stavo cambiando perché ho fatto... Ho una cosa per te. No, che stai facendo? Ma non ci... No, vabbè, il cappellino là ci sta in Natale. Mi sembra... Ma certo che non sarò certo sexy come te stessi. Grazie, grazie. Sì, visto che... Però con questa cravattina rossa sei... È proprio abbinato al Natale. Senti, facciamo una cosa allora, visto che ci sono qua i nostri amici di Facebook, vogliamo andare a fare un po' di previsioni sul Natale? Io direi sì. Andiamo. Andiamo, andiamo. Siamo. Allora, Alba, insomma, comunque c'è poco da dire, vero? Sì, anche perché non stiamo ripetendo ormai da giorni e direi che questo è un po' semplice, si vede anticiclone, non ci abbandonerà nemmeno per Natale, quindi... Quindi niente, niente piogge, purtroppo niente neve e inquinamento ancora alle stelle. Foco cambierà, probabilmente, diciamolo, anche se fino anche forse agli ultimi giorni dell'acqua, insomma, vi aggiorneremo. Non è così, però diciamo che è proprio perché è Natale. Esatto, la magia del Natale. Siamo più buoni e noi che cosa vogliamo fare? Un miracolo. Esatto, vogliamo regalare la neve, quindi... Uno, due, tre. Oh, dai che ce la facciamo. Ma speriamo che sia di buon orgullo. Sì, sarà un bianco Natale. Auguri, auguri a tutti. Ciao, buon Natale. Ciao.